Salve a tutti amici, recensione della O-Lite O-Lantern Mini, molto più di una lanterna come c'è scritto qua sulla confezione. È un prodotto che può arrivare al massimo a 150 lumens e con una durata massima di 48 ore con la sua batteria interna. Ebbene sì, è un prodotto che non va a pile ma va a batteria interna. Vediamo subito cosa c'è nella confezione. Quindi apriamo ed ecco qua subito la lanterna che è veramente piccola. Eccola qui. Poi abbiamo il suo cavo di ricarica qua dentro. E sempre qua dentro poi abbiamo anche il manoletto. Ora prendo il cavo. E troviamo anche un panno in microfibra per pulire la nostra lanterna. Eccolo qua. Allora innanzitutto esaminiamo le specifiche come riportato anche qui dal manualetto. Si tratta di un prodotto di 239 grammi di peso con dimensioni 99,3 x 52,2 mm e resistenza agli spruzzi IPX4 certificato. Con anche resistenza alle cadute fino a un metro. E qua abbiamo le varie modalità che vediamo subito. Si accende con un pulsante. Il pulsante è questo qua. Ed ecco qua. Tenendo premuto il pulsante d'acceso passiamo a bassa 15 lumen con batteria che può arrivare a 48 ore di durata media, 50 lumen 12 ore di durata e 150 lumen con la modalità massima a 4 ore di durata. Dopo vedremo la prova al buio. Inoltre premendo velocemente il tasto due volte passiamo alla modalità rossa. Quindi abbiamo anche una luce extra. Ora da ricordare questo. Noi possiamo memorizzare l'ultima luce attivata. Quindi se vado a spegnere con un tap e riaccendo. Lui si ricorda che punto ero. Ma non se siamo nella modalità rossa. Quindi se siamo nella modalità luce rossa la lanterna non ritornerà una volta riaccesa alla modalità rossa ma alla modalità bianca. Il cavo va posizionato qua sotto. È magnetico. E qua possiamo ricaricare tramite USB la batteria. Batteria che si ricarica abbastanza velocemente. Passiamo quindi subito al test di luminosità. Siamo nello stanzino. Adesso spengo la luce e proviamo la torcia. Perfetto andiamo ad accenderla ed ecco qua. Allora la luce rossa non ci consente di leggere più di tanto le cose a meno che non sia attaccato. Ecco in questo modo riesco a leggere però è più una luce atmosferica. E vedo poco molto poco con la rossa. Se cambio ecco qua. Quindi andiamo a vedere la bassa. Già con la bassa si riesce a leggere guardate. E si riesce a vedere abbastanza questa stanza. Media molto meglio. E alta ancora meglio. Quindi sono sorpreso. In realtà non pensavo facesse così tanta luce. Sapendo che ovviamente è una Lantern Mini. Non è una torcia di alto livello che raggiunge migliaia di lumen. Però è veramente buona. Questa luminosità quindi ci consente di fare tante cosette. Vediamo come si comporta in esterna. Bene siamo fuori al buio. Adesso accendiamo la Lantern. Allora questa è la modalità Low. E come potete vedere. Allora dalla videocamera non si vede molto. Io vedo di più di quello che vedo sulla videocamera. Però è ovviamente una luce abbastanza tenue. Per gli esterni. Si vede leggermente a distanza. Quindi diciamo che per uscire fuori in giardino e far qualcosa è fattibile. Ma meglio usare una media. Quindi andiamo a impostare la media. Ecco fatto. Così è già molto meglio. Si comincia a vedere il terreno anche da qua. Dalla videocamera. E adesso infine proviamo la modalità massima. Ecco qua. Con questa si vede ancora meglio ovviamente. E si riesce anche a vedere il fondo. Vedete? Dalla videocamera. Perfetto. Ecco la piazzo un po' a lato. E vedete che si riesce a vedere. La spengo. Quindi buona anche per gli esterni. Nonostante ovviamente non sia una torcia di quelle da molti più lumen. Però è veramente molto molto adatta anche a fare quelle piccole cose in esterno. Adesso vi saluto dicendovi un'altra cosa interessante che ho scoperto da poco. Questa luce che vi aiuta anche a capire lo stato della batteria si spegne quando lasciatela o lantern ferma per un po'. Adesso la vado a spegnere. Come potete vedere c'è ancora la luce. Adesso metto la modalità night shot perché vi devo far vedere una cosa molto molto figa. Ecco qua. La luce si è spenta ma se andiamo a toccare anche leggermente la lanterna. Qua. Eccolo. Vedete? Si riaccende. Quindi uno la trovate al buio quando la toccate. Trovate il tasto da premere. E due poi quando la toccate si rispegne. Quindi non c'è il rischio che vada a consumare la batteria. Lo dico perché molti diranno ma questa cosa rimane accesa solo perché la state toccando. Quindi cosa molto molto interessante. Niente quindi questa era la recensione della lanterna di Olight. La Mini. Un saluto. Un saluto. Un saluto.